Oggi pomeriggio a Casa San Filippo un convegno dal titolo Gli illeciti ambientali e le tutele possibili, gli strumenti del diritto dalla denuncia dei cittadini al giudizio di legittimità. Dottor Ramacci, consigliere di Cassazione, il convegno prende spunto dal manuale di autodifesa ambientale del cittadino, la terza edizione di un suo lavoro, di un suo libro molto importante che devolve anche in questa occasione i guadagni alle campagne e alle attività di lega ambiente. Cosa ci può dire rispetto a questa iniziativa? È un'iniziativa sicuramente interessante, il volume è un regalo al lega ambiente che ho voluto fare perché possa essere un ausilio per il cittadino comune per comprendere una materia che è sicuramente facile non è da comprendere e sapere come muoversi nella legalità per contrastare fenomeni purtroppo diffusi nel paese. Il convegno immagino sarà un'occasione per parlarne e anche per fare il punto della situazione che in Italia non è certamente erosea. Tra traffici legali di rifiuti e smaltimenti legali di rifiuti, la piaga dell'abusivismo edilizio, l'inquinamento delle acque, del suolo, dell'aria, insomma i reati ambientali toccano la vita di tutti i giorni delle persone. Quanta è la sensibilità delle persone e quanto positivo è incidente il ruolo delle istituzioni che dovrebbero concorrere a contrastare questi fenomeni di legalità oggi? L'attenzione dei cittadini è ondivaca perché normalmente questi problemi riscuotono attenzione quando riguardano direttamente le persone o le loro proprietà, diversamente si avverte una minore sensibilità. Il fatto molto grave è che le istituzioni, cioè chi dovrebbe per conto dei cittadini provvedere alla tutela dell'ambiente, alla tutela della salute perché poi alla fine tutto si ripercuote sulla salute delle persone, lì l'attenzione manca e spesso c'è una connivenza tra pubbliche amministrazioni e inquinatori, ovviamente sempre queste attività sono determinate dalla necessità di guadagno, di risparmio per esempio nel trattamento dei rifiuti e quindi chi dovrebbe intervenire a tutela dei cittadini normalmente non lo fa. Lo vediamo guardandoci intorno dall'abusivismo edilizio che è la cosa più evidente, le mancate demolizioni, le mancate acquisizioni degli immobili abusivi, tra l'altro ad Agrigento c'è stata la prima sentenza della Cassazione che ha riconosciuto la responsabilità di un sindaco per le mancate demolizioni e quindi l'abusivismo edilizio è la prima cosa, ma anche il traffico di rifiuti, l'inquinamento atmosferico e tutto quello che è connesso con l'attività industriale e le attività umane crea problemi che dovrebbero essere presi in considerazione ma non vengono spesso considerati adeguatamente da chi dovrebbe farlo. Grazie